Problematiche inerenti alla valutazione e l'assegnazione dei beni immobili comunali con particolare attenzione ai locali ubicati allo stadio Marco Tomaselli. Questo uno dei punti inseriti all'ordine del giorno nella convocazione della quarta commissione consigliare permanente, convocazione stessa anche capigruppo senza diritto di voto se non componenti della stessa commissione. La questione dei locali dell'impianto di Piannellago era già stata trattata in passato dal consigliere comunale Michele Doro, nonché presidente della stessa commissione. Un anno fa circa ho fatto questa interrogazione per valorizzare i locali che si trovano all'interno dello stadio Tomaselli. Potrebbero essere di grande aiuto per l'attività delle associazioni, federazioni che qui svolgono la propria attività e quindi anche da presidente della quarta commissione bilancio e patrimonio ho indotto la commissione a lavorare su questo tema. Domani abbiamo un ordine del giorno che comprende anche questo argomento. Vorremmo che l'amministrazione tramite i suoi assessori andaloro al patrimonio, caracausi allo sport, finalmente regolarizzasse la situazione di quelle società che hanno già dei locali in uso o ne assegnasse di altri secondo il regolamento che abbiamo predisposto in consiglio comunale. oltre un anno e mezzo fa. Il comune potrebbe introitare delle somme o richiedere delle attività di compensazione, non so, magari far praticare lo sport gratuitamente ai bambini che ne hanno necessità e cose del genere. Noi nelle scorse sedute abbiamo riesaminato questo regolamento e domani faremo il punto, redigeremo una nota da inviare all'amministrazione con la quale appunto raccomanderemo consolersi a di mettere a posto tutte le autorizzazioni che sono necessarie in questo momento.